Il numero dei disoccupati spagnolo è diminuito di circa 100.000 unità nel mese di giugno, una caduta del 2% rispetto a maggio, secondo i dati resi noti dal Ministero del Lavoro. Oggi i disoccupati spagnoli sono in totale 4.615.000 unità, una cifra in calo negli ultimi tre mesi. Una notizia positiva per l'economia della penisola iberica, anche se Madrid guida la classifica degli stati con il più alto numero di disoccupati nella zona euro. Soddisfazione anche da parte del Ministro dell'Economia, Luis de Guindos, secondo cui il Paese sta facendo ulteriori sforzi per garantire l'obiettivo della riduzione del deficit. Ciò che conta è che ogni forza viva contribuisca al piano e faccia uno sforzo in più. La Spagna ha come scopo primario la riduzione del deficit prodotto interno lordo dall'attuale 8,9% al 5,8%. Obiettivo irraggiungibile a meno che non venga messo in atto un altro piano di austerity.